ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sulle le king tv quest'oggi ci sarà uno spacchettamento dei calciatori 2019 2020 le solite 55 bustine ad aprire non è quello della domenica e ho deciso farlo anche infrasettimanale quindi ragazzi seguitemi iscrivete al canale perché ci saranno molti molti più spacchettamenti molti più ce lo mi manca su questa collezione perché adesso cerchiamo di stringerla questa collezione e portarla al termine ancora non ho finito il primo box da 60 bustine manca poco e poi inizieremo il secondo quindi iniziamo subito questo spacchettamento prima di tutto però vorrei invitarvi a iscrivervi al canale se non l'avete fatta attivare la campanella lasciare un bel like un bel pollicione all'inso a questo video seguirmi anche sul secondo canale di cui trovate il link qui sotto in descrizione che è le le king live tv dove andremo in live detto questo iniziamo iniziamo dal pacchetto quello maggio ma si ragazzi ma iniziamo questo pacchetto maggio vediamo cosa c'è fuori allora c'è la formazione del pescara eccola pescara e come sapete al pescara sono usciti i giocatori l'anno di zeman che il pescara vinse il campione serie b e ritornò in serie a come insigne e come immobile e come per ratti poi abbiamo top performance con gigio donnarumma portiere del milan abbiamo mezzo autobus del milan questo girato è michel veloso giocatore portoghese classe 1986 quindi tanta esperienza per lui un giocatore che ha giocato anche con il genoa caisseto della lazio eccolo qui caisseto 1988 ecuador due stagioni già che gioca nella lazio un giocatore che si dà da fare è stato fondamentale secondo me nella lazio degli ultimi tempi poi abbiamo romulo del brescia romulo che ha girato molte squadre giocatore brasiliano con passaporto italiano tra cui anche la juventus cui ha vinto uno scudetto se non sbaglio la lazio e via dicendo questo questo è romulo è l'ultima di questo pacchetto apriamo il secondo pacchetto vediamo cosa esce fuori c'è uno scudetto chi è chi è sassuolo ragazzi lo scudetto del sassuolo eccolo qui scudetto del sassuolo poi abbiamo la formazione dell'ascoli cialanoglu del milan non ha vinto poi chi abbiamo qui iones giocatore tedesco nel napoli centrocampista ciro immobile bomber della lazio della nazionale italiana cavo canoniere del nostro campionato ciro immobile classe 1990 ex pescara torino poi borussia dortmund e poi il ritorno in italia prima in prestito se non sbaglio ha fatto una stagione in prestito al torino e poi fu acquistato dalla lazio tra lì diciamo la seconda vita calcistica di immobile perché è riuscito a riconsagrarsi nella capitale ok poi chi abbiamo iones gosens scusate che iones gosens giocatore tedesco dell'atalanta gran giocatore l'atalanta che sta facendo un buon campionato la maglia della samp top performance criscito per lui ritorno al genoa dopo la l'esperienza al san pietroburgo allo zenith di san pietroburgo con con spalletti che lo vuole lì le rager del giocatore del genoa danese non hai vinto va bene cremonese caracciolo renzetti e terranova poi abbiamo vitale giocatore dell'ellas verona e babacar del lecce per lui promessa che poi alla fine non è mai sbocciata del tutto adesso quest'anno a lecce ma non sta facendo tantissimo secondo me per quello che ci si aspettava giocatore velocissimo giocatore che nella fiorentina ci si aspettava tantissimo si aspettava da un momento all'altro la sua esplosione calcistica invece non è mai avvenuta e quest'anno per lui indosserà la maglia del lecce poi abbiamo l'autobus del brescia o liberi campione francese ex bayern monaco per lui tantissimi anni al bayern monaco bandiera al bayern monaco quest'anno la fiorentina ha puntato su di lui per la sulla sua esperienza per dare qualcosa in più alla squadra la sua esperienza si è vista la sua classe si è vista ma la fiorentina diciamo che fino adesso non ne ha giocato più di tanto perché non è riuscita a ottenere i risultati che si aspettava di inizio campionato per lui classe 1983 quindi 37 anni colarov altro giocatore di esperienza appena rinnovato il contratto con la roma per lui prima della roma in italia giocato nella lazio ricordiamolo poi è andato per tantissimi anni in inghilterra al manchester city ritorno alla roma e ritorno diciamo convincente nel campionato italiano per lui rinnovato il contratto poi abbiamo il perugia con con una carraro e balic poi abbiamo un altro della lazio che mi linko i cesavic per cui due anni fa c'era una una valutazione di cartellino da parte della lazio d'intorno ai 100 milioni adesso un pochettino si è abbassata però diciamo che sta risalendo perché gli sta facendo un ottimo campionato quest'anno poi abbiamo caprari anche lui ex roma infatti è nata roma giocatore della stampa attaccante chi abbiamo qua mezza formazione del brescia stiamo trovando un bel po di figurine questa volta l'autobus del bologna che devo dire per adesso mi sembra uno dei più belli posso dire poi balotelli per lui ritorno in italia dopo anni in giro per l'europa tra inghilterra e francia un ritorno che per adesso non è un ritorno eccezionale per lui lui attorno in italia anche per cercare la maglia azzurra ma se non si mette in testa di migliorare le sue prestazioni ma anche il suo comportamento difficilmente lo vedremo all'europeo secondo me non hai vinto va bene musacchio difensore argentino in forza al milan top 11 qui abbiamo andanovic e joao canselo che la juventus non ha riscattato ragazzi una cosa che mi ha lasciato molto perplesso io sinceramente joao canselo lo vorrei nella mia squadra un altro calciatore da lazio e questa volta il portiere albanese stracoscia eccolo qui per lui in questa figurina come vedete ha vinto una supercoppa e due coppie italia adesso la lazio ne ha vinta un'altra quindi si è aggiunta al suo diciamo tabellino di vittorie anche l'altra coppa italia ok ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video sarà il cielo mi manca di questa raccolta ciao a tutti